Adesso Mr. Giancarlo Fichera gli chiede un salto di qualità. In questo girone di ritorno nel Giarra che cerca gli ultimi punti per la salvezza deve fare di più del semplice compitino Vittorio Vecchio. Il giovane terzino giallo-blu nelle ultime gare è stato impiegato da Mr. Fichera con maggiore continuità. Diciamo che nell'ultimo periodo a causa dei infortuni molti giocatori sono venuti a mancare. Io sto cercando di prendere spazi e soprattutto di ambientarmi anche con i più grandi. Tutto sommato sei difeso anche nelle gare con Palazzolo e Milazzo con avversari di valore. Sì, diciamo che il Palazzolo ha una grande squadra. Io ho cercato di dare il massimo ma ancora credo che posso fare molto di più e soprattutto devo sistemare molte cose anche a livello tattico. In questo girone di ritorno Vittorio sarete determinanti soprattutto i giovani. Visti anche i gol di Privitera a Via Grande, di Pezzino Domenica ma anche tu e gli altri minori di Benedetto in difesa. Molto dipende non tanto dai grandi ma in questo momento determinante sarete voi. Sì, diciamo che anche noi giovani facciamo la nostra parte in squadra e cercheremo di dare il massimo soprattutto con la destra di essere concentrati per la prossima partita.